maestro dall'artista dal mastro pasquale sposito inoltre voglio presentare i cuochi che sono stati proprio l'artefice della sagra perché ci sono pervenuti complimenti da tutti e non solo della nostra regione ma anche fuori regioni allora passo la parola a Sebastiano Sappio che è uno dei cuochi non è vero che sono cuoco allora il ringraziamento più grande va ai ragazzi che vedete qua perché senza questi ragazzi noi la sagra non l'avremmo fatta l'applauso più grande va a loro e inoltre a tanti volontari che si sono prestati affinché questa sagra diventasse quello che è diventata nell'arco di dieci anni siamo cresciuti cresciuti veramente tanto il nostro intento è quello di migliorarci ancora con il vostro aiuto e con il nostro impegno speriamo che l'anno prossimo questa cosa si possa ripetere nel modo migliore possibile grazie a tutti quanti voi però non possiamo lasciarvi senza dare la parola alla nostra segretaria l'unica donna del CRC buonasera va bene non posso che ripetere i ringraziamenti che già vi ha fatto il presidente che già vi hanno fatto i cuochi perché il nostro ringraziamento va principalmente a voi la sagra non è che si conclude questa sera perché l'attività della sagra comunque nel corso dell'anno diciamo riesce a permette diciamo a noi del comitato di fare comunque altre attività negli altri anni abbiamo avuto il piacere di fare il carro di carnevale sempre con i proventi della sagra quest'anno invece abbiamo avuto l'opportunità grazie alla collaborazione di medici volontari di organizzare una giornata totalmente gratuita di specialisti che si sono prestati e hanno fatto delle visite gratuite presso la nostra parrocchia tutto questo è stato possibile grazie a questa attività e quindi il grazie va sempre a queste persone che non solo in questi tre giorni ma in molti giorni almeno un mese prima le attività per organizzare in maniera così perfetta questa occasione diciamo sia avviata perciò un ringraziamento a voi e anche un ringraziamento a noi un invito a tutti i collaboratori che domani mattina dobbiamo smontare no quelli che hanno la possibilità di venire vengono perché dobbiamo liberare il campo verde e dobbiamo rimanere tutto pulito come abbiamo trovato si mangia si mangia allora si cosa vogliamo dare come va? e regalo a famiglia come a famiglia o la mia madre ci siamo dimenticati di Salvatore Sabio Salvatore Sabio, Salvatore vieni allora dovete sapere che noi fino all'anno scorso siamo stati supportati e diciamo indirizzati dall'amico Salvatore Sabio che un po' per l'età si è fatto vecchia re con me non ci sta vabbè ma ci sta il figlio qua che glielo potrà dire un ringraziamento va pure a Salvatore Sabio che è stata una colonna portante della Sacra fino all'anno scorso e continua ad esserlo anche moralmente ma continua ad esserlo grazie Salvatore grazie a tutti